Ancora risultati di assoluto prestigio per il settore giovanile della passalacqua spedizioni. Ben sei atlete tra le 16 siciliane che parteciperanno al trofeo delle regioni che si svolgerà a Roma dal primo al 6 aprile sono infatti della società biancoverde. Si tratta di Ludovica Liciardi, Sharon Baglieri, Carola Chessari, Eva Procopio, Giorgia Rimi, Beatrice Stroscio che è arrivata lo scorso mese di febbraio in prestito da patti. A sfidarsi nella capitale saranno le rappresentative under 15 di tutte le regioni d'Italia che sono state selezionate nel corso dei raduni di Azzurrina. La Sicilia sarà guidata da coach Nini Gebbia. Nella passata edizione dell'importante competizione giovanile la squadra siciliana che lo scorso anno ha visto invece in panchina coach Gianni Recupido si è classificata al nono posto. Ancora un segnale importante dunque soprattutto in ottica futura per la società ragusana che oltre alla prima squadra che si trova ai vertici nazionali vuole crescere anche in ambito giovanile ponendosi come capofila siciliana e non solo.